Ciao ragazzi, oggi giocheremo a Modern Mystery e ci stanno anche due miei amici, quindi giocheremo insieme all'ora, però in verità giocheremo per fatti nostri, però sempre ci stanno i miei due amici. Allora ragazzi, io mi trovo nel mio nascondito segreto, quindi nessuno mi potrà trovare. Ok, non la usciamo perché non ce la faccio neanche per io, no, aspettate, è baggata, ragazzi mi sono baggata, ho preso, allora, io assolutamente, ecco come sto messa, wow. Vai, brava, spingimi, 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 vai. Aspetta, no. Che brutta musica che c'è però, eh. Adesso, comunque, sì, questo mi è ucciso perché io sto giocando da un bel po' di tempo, ma, cioè in verità no, sto giocando sempre da poco tempo, non è che da tanto, però ragazzi io non riesco ad uscire da questo. Ragazzi, mi aiuta. Ah, sono uscita, finalmente. Perché c'è sta una bomba? E chi l'avrà potuta mettere? Io non parlo. Ragazzi, comunque ho scoperto che non c'è nessuno. Cioè, se no, ci sta un... Oh, cacchio. Ragazzi, si è fatto vedere, si è fatto vedere. Oddio. Ok, però io mi sono nascosta qua dietro perché, sinceramente, voglio stare al sicuro proprio. No! Mamma mia, eh, ora non riesco neanche a sopravvivere. Allora, una sola volta. Comunque, tesoro, lo so fare anche io. No, no, aspetto. Allora, dovreste fare così. Perché a me non me lo fa fare? Non lo so, ragazzi, perché a me... Però... Ok. Io non lo so più. Però per me sei nato... O mio amico. O mia amica. E adesso non è più. Cioè, perché no? Niente. Altranto fuori che me ne prego. Non è più perché non è più. Comunque, ragazze. No, mi devo stare ferme, ma scusatemi. Quindi stiamoci ferme fino all'inizio della partita perché noi siamo brave e quindi ci stiamo ferme tutto il tempo. Comunque, ragazze, oggi uscirà un video carino. No, no, dai, bello. Comunque lasciate like. Non è finito il video che tanto vuole iniziato, però comunque lasciate sempre like. Lasciate tanti like. Sempre. Sono passate. Sono passate. Minimo. Che video di? Tre minuti? Quanti minuti possono essere passati? Dieci minuti. E niente, ragazzi. Siamo qua altri venti minuti perché la partita non inizia. stanno giocando ancora. Ah, ecco qua. Ah, ma era lui l'assassino. Che ti ridi tu? Comunque. Comunque. Sono. No, questo qua. Scusate. Perché? Ma non è che se ci sta il tuo amico ci devi andare là perché? Non lo so. Che brutto. Ma è vero? Quello ce l'ho sentito sulla testa di quello. Va bene. Ok, ragazzi. Io posso anche... Non ce la faccio più ad essere innocenzo. Allora. Dovete sapere. Che io voglio essere per una volta assassinato. Si è avvicinato a me quello perché mi voleva uccidere. Ciao. Mi fa paura. No, vabbè. Comunque, ragazze, io sono... Che vuoi da me? Comunque. Ragazze, volevo dire. A parte che è quella monnino. Non lo so. È una casa. Usciamo subito. Io esco di dentro dal gioco perché non lo so. Anche perché si sta bugando. Io sto camminando. Ma voi vedete? Ferma. È anche io. Ok, usciamo dentro. Ok, ragazzi. Forse sono entrata sempre nello stesso server. Però... Vabbè. Dammi dire. Non lo so, ragazze. No! Si sono tutte bad, ragazze. Si sono tutte quanti che... Sono bad girl. Bad girl. Comunque, me la ho chiamato. E poi... Ci stanno tipo due che sono io. Che va bene. Ma quella qui... Ma non ci sta bene questa. Ragazze, questa non è bella. È bellissima. Poi anche la prima cosa. Top! Top. Veramente top. Comunque... Ho fatto ciò. Farò tipo una o due partite o tre. Poi devo chiudere i video perché tanto so. Stiamo già da otto bellissimi. Vabbè, stavo dicendo otto bellissimi minuti. Comunque... Sono sempre innocenzo. E te pareva... Quanti... 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 Ragazzi... no mi ha ucciso e ti pareva che mi ha ucciso e ti pareva che mi ha ucciso ragazzi ok questa ha preso il cortello ma perchè vip e l'ha preso però senza che era l'assassino io voglio fare così ragazza perchè non c'è un po' di tiro ok no comunque io gol ma come in inglese non significa raffreddore do ragazza ma ma che sto scrivendo allora se stiamo dicendo tipo ma allora volevo dire una cosa ma se stanno scrivendo la data di nascita no io penso che lei se veramente ma stanno dicendo una serie proprio inutile allora se lei è nata nel 2004 avrà tipo 16 anni a 16 anni ma io non lo so ragazze ma perché dite cosa fate a 16 anni potete mai giocare ad un gioco così delicato cioè si fate come volete però comunque cioè non lo so ragazzi però vabbè ragazzi io non ci credo allora ragazzi ma se io sono le 5 soggetti perché ho mio e sei l'assassino allora ragazzi l'ultima partita decisiva se non sono io l'assassino esco e non faccio perché ragazzi non è possibile ah mi sono veramente scocciata che non sono mai per mai un assassino ah questo è un nascondiglio bene un nascondiglio buono perché non ti vede proprio nessuno proprio nessuno nessuno ok ragazzi sto sentendo tipo pistole quindi adesso andiamo perché non ho voglia di sentire solo pistole e io non ci vado però comunque oggi no ragazzi sono morta in piedi mi ha fatto ridere un sacco no ragazzi ma io guarda proprio so capacità comunque eroe si ti capisco nella tua lingua ti capisco ti capisco molto bene però solo eroe ho capito perché poi non ti capisco eh non ti capisco allora ragazzi questa è la partita decisiva adesso inizierà questa partita e sarà la decisiva di di tutte perché perché io voglio essere un assassino e quindi la mia fama è essere marver speriamo facciamo le dita ok ragazzi io farò questa partita e basta io ho detto che era la decisiva che brutto però bello ma perché mi insieme ok questa cosa è bruttissima è matta il ferro maestro ma già hanno vinto vabbè raga comunque il video si conclude qua perché io una volta sono stata assesiva ma anche perché sta registrando tipo da 14 minuti ed è troppo ci vediamo al prossimo video ciao con uno sopra qua è bello però c'è il pad anche se no è troppo basso un po' più alto vabbè comunque ciao raga ci vediamo al prossimo video lasciate like sul canale e attivate la campanellina ciao ciao